ciao a tutti e bentornati sul canale oggi nuovo video recensione il primo del 2017 ci tengo a precisare che tutti i video che farò per recensire i prodotti non sono video in collaborazione con le aziende quindi non me li hanno mandati ma li ho acquistati direttamente io nei miei vari giri nell'ipermercato oppure in vari negozi che ci sono qui a bari dove trovo dei prodotti che penso possano essere interessanti per gli intolleranti al lattosio oppure dei prodotti per la cura della persona che sto utilizzando questi prodotti ripeto non sono stati inviatimi dall'azienda ma li ho acquistati direttamente io voglio recensirvi questo prodotto la nocciolata della rigoni di asiago che è un prodotto biologico senza latte questa qui con la scritta marroncina e la confezione gialla l'etichetta gialla è un prodotto senza latte infatti c'è scritto non l'ho ancora assaggiata infatti è ancora sigillato ho voluto prendere questa da 700 grammi il boccaccio da 700 grammi perché era in promozione all'ipercop qualche giorno fa quando ho fatto la spesa l'ho trovata a 5 euro e 50 5 euro e 49 facendo una proporzione tra il prezzo e la dimensione del barattolo piccolo che se non erro è da 250 grammi quello costava 4 euro e 19 mentre questo da 700 veniva appunto 550 scontato il prezzo originario non lo ricordo andiamo a leggere gli ingredienti crema di cacao e nocciole biologica ingredienti zucchero di canna pasta di nocciole al 18 per cento olio di girasole cacao 11 per cento burro di cacao emulsionante lecicina di girasole estratto di vaniglia biologico può contenere tracce di altra frutta guscio senza glutine conservare a temperatura ambiente prodotto da rigoni di asiago srl vegan controllato da certification europe italia ha una scadenza molto lunga questa mia per esempio scada nel 2019 è specificato che un prodotto vegano ancora sulla confezione c'è scritto avvertenza eventuali grumi sono un fenomeno naturale dovuto alla solidificazione del burro di cacao che si verifica a basse temperature per eliminarli tenere il vaso qualche ora a 25 gradi circa quindi più o meno a temperatura ambiente ora non resta che provarla e verificare come ok all'interno della confezione si presenta così non ha sulla patina d'alluminio che di solito le cioccolate diciamo spalmabili hanno però sembra abbastanza consistente non si muove proviamo ad assaggiarla consistenza assomiglia a quella della nutella non è come la nutella ovviamente si sentono le nocciore si sente ovviamente il cacao fondente il cioccolato fondente è buono è buono è molto dolce si questo si però non è stucchevole al palato forse perché ne ho prelevato poco però diciamo che la sensazione in bocca è quella giusta della cioccolata spalmabile per me è ok nonostante ne abbia assaggiato davvero pochissimo posso dire che la recensione al momento è positiva ovviamente dovrò provarla all'interno magari di qualche preparazione dolce come qualche ricetta che ho intenzione appunto di realizzare vedremo lì in concreto se effettivamente la la sua consistenza così cremosa è valido no se è un ottimo se è un buon sostituto della famosa nutella o anche della mia nutella fatta in casa perché anche io realizzo la nutella fatta in casa e vi lascio il link è qui sulle schede ora vediamo dove riesco a posizionarvi il video io ne sono soddisfatta ripeto solo per un assaggio piccolissimo e quindi la mia recensione è positiva se avete bisogno di altre informazioni per quanto riguarda la nocciolata della rigoni di aseago lasciate un commento giù nell'info box ciao e alla prossima mi interessa un cucchiaino per favore un cucchiaino e certo e quindi proviamo ad assaggiarla